13 immagini catturate da Massimo Sestini, fotoreporter di fama internazionale, il calentario 2024 della Polizia di Stato, coniuga la bellezza dei territori con il dinamismo e le diverse attività svolte dagli agenti da Piazza Unità d'Italia, di Trieste e quattro canti di Palermo, da nord a sud, un viaggio di 12 mesi, tra le meraviglie d'Italia in compagnia delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. 13 e non 12 fotografie, perché per la prima volta c'è anche una copertina, una splendida istantanea scattata a bordo di un elicottero della Polizia di Stato, che ha come sfondo uno degli scorci più suggestivi delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, le tre cime di Lavaredo, in provincia di Belluno. A Isernia la presentazione del calendario, affidata al questore Vincenzo Macri, da fotoreporter amatoriale, è uno che di foto se ne intende non poco. Nell'occasione è tracciato anche un bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Isernia nel corso del 2023. Nessun numero ha precisato il questore, perché sono poco indicativi per comprendere in quale direzione si sta andando, meglio le statistiche. E a proposito di percentuali, il primo dato evidente è che in provincia, da gennaio a novembre 2023, l'indice dei reati su 100.000 abitanti è sceso drasticamente a livello nazionale. Isernia, dal 64esimo posto del 2021, nel giro di soli due anni, ha raggiunto la trentesima posizione in netto calo anche le percentuali che riguardano i furti in generale e anche quelli in abitazione. Ancora più significativo il rapporto tra la diminuzione dei reati e l'aumento di alcune attività di prevenzione, in particolare i servizi mirati di controllo sul territorio. A Isernia e provincia ha spiegato il questore Macrisi e creato una forte sinergia tra forze di pubblica sicurezza, autorità di governo territoriale e procura un lavoro di squadra che, come evidenziano le statistiche, sta dando ottimi risultati.